Pedro Almodovar ha catturato l'attenzione del pubblico e dei fotografi alla mostra del cinema di Venezia, sfoggiando un elegante abito doppio petto rosa decorato con una lunga foglia d'oro sul reverse. Il celebre regista spagnolo ha sfilato sul red carpet per l'anteprima mondiale del suo ultimo film in concorso, La stanza accanto, che vede i protagonisti Tilda Swinton e Julianne Moore. La serata veneziana ha visto anche la partecipazione di altre grandi personalità del mondo del cinema. Claude Leloc, regista francese di fama internazionale, è giunto alla mostra per presentare Finalement, il suo nuovo film fuori concorso. Leloc è stato accompagnato dalla moglie, la scrittrice Valeria Perrine. Tra i volti noti presenti sul tappeto rosso, si sono distinti anche gli attori italiani Stefano Accorsi, Caterina Murino, Vittoria Puccini e Kasia Smutniak, affiancati da Sonia Bergamasco, Barbara Paz e Taylor Russell. La presenza di queste star ha contribuito a rendere ancora più scimpillante l'atmosfera di una delle serate più attese del festival, che si conferma come un evento imperdibile per il cinema internazionale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!